è il respiro che guida il movimento un ruscello una superficie con dell'acqua voi dovete accarezzarla da qui svuoto raccolgo e riapro le articolazioni siano belle aperte e non si vada a disperdere forza ancora un paio di volte 1 1 2 1 2 3 calcio interno e viene lui e di nuovo movimento deve essere sempre continuo guardate bene pensate a un cerchio 1 2 3 e questa segue lo devo abituare a imparare a leggere il colpo quindi da qui 1 come atterro circolare alto lo devo abituare a leggere il colpo il colpo il colpo il colpo il colpo paro il colpo anche e 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